Buonasera amici di Baila Chieto e Pasta e benvenuti al Drummond's Pub. Questa sera la Domenica Latina è dedicata alla squadra del cuore degli Stabiesi. La Juve Stabia è tra una salsa, merengue e baciata. Andiamo a scoprire cosa succederà. Pintura. Pintura. Pasegata. E io insisti che ragazzi. Pintura. Oh Shakira. Cambio. Buonasera amici. Sossa! E ancora! Sossa! E... Sicura! Giro! E... Passaggiatta ragazzi, vai! E la cabeza! Pianchi! Giro! Pianchi! Pianchi! E... Pianchi! E fanno questi ragazzi, vai! E... Salta 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 Tiro E Salta 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 Ciao ragazze, come state? Come ti chiami? Mi chiamo Chiara. E tu? Alessia. Allora ragazze, raccontatemi tre buoni motivi per cui vale la pena ballare salsa o tutte le danze latine in generale? Innanzitutto perché la salsa è un ballo per tutti i tipi d'età, quindi sia giovani come noi che più anziani, poi il secondo motivo è perché oltre alle lezioni ci sono tantissime gerate in tutta la penisola e terzo perché è coinvolgente, allegra, ma voi quanti anni avete? 16. 16 e tu? 15. E da quanto tempo ha ballato salsa? Due anni. Due anni. Allora fate un saluto alle telecamere di Baila che te passa. E stasera qui al Drummond c'è anche una bellissima brasiliana direttamente dal Rio de Janeiro. Hola! Ciao, buonasera a tutti. Come si dice in brasiliano buonasera? Buonnoici. 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 Come ti chiami? Claudette. Da quanto tempo sei in Italia? 20 anni. Ascolta, come ti trovi alle storate latine qui in Italia? Meravigliosa perché è un posto di mare e sono andata a vivere in un altro posto di mare, quindi mi trovo benissimo. Allora, benvenuta in Italia. Grazie. Buonnoici. Allora, questo faro, questo padrone tutto sul Facebook, diciamo, in questo video. Allargiamoci un po'. Allargiamoci. Allargiamoci. Vediamo quanti ne siamo. Vedo ancora delle ragazze libere, ragazzi. Dai, scusate. Pronti? Passiamo un piccolo. Al centro. Ciao, come stai? Bene, grazie. Come sta andando? Ci stiamo divertendo. Una delle cose più belle che si nota alle serate latine è che sono adatte a tutte le età. Esatto, è un ballo di tutta l'età. Giovani, grandi, piccoli, tutti insieme. Un unico denominatore comune, la salsa e il divertimento. Esatto, questo sono d'accordissimo. Io che ho fatto un po' tutti i balli, con questo ho completato. Qual è il tuo preferito? Qual è il mio ballo preferito? Il rock and roll. Rock and roll, wow! Ciao, grazie. Grazie, grazie a te. Ciao.